la mamma non voleva bravo QG, fai così QG belle ore telecamere a trevate però, a dire l'oretta dai, metti qua metti qua giorda, giorda, dammi un attimo dammi un attimo, giorda metti qua ma tu un attimo fermi c'è la spagona questa cosa perché rispondi sempre così? io, fai tolta, non sono scostato no, 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 no poi dici perché sono di caratteri, cose ma la cazzo ma la cazzo ma come è? come è? Gio, mi passi a zaino? le mie palle, le mie palle quando che cazzo c'è la mista? è nella scuola c'è l'acqua eh, era ma no cazzo mi sono scontata dalle tre mele dovevo andare che devi fare? non andare a scuola ah boh è su youtube è su youtube è su youtube e come le chiamate? cosa hai pensato su youtube? 26 secondi no 26 minuti nella vita di Salvatore Giordano il video dove lui sta mezz'ora con la telecamera in mano mi è castrati come lo faccio? come le caratterie che giocavano che male è fredessa eh sì, dura 27 minuti andiamo a vedere partiamo il canale dopo ah beh, penso che se trovi sono chiusi a scrivere se ti metti la piazza non troppo e andiamo in acqua un po' il codio andiamo in acqua si appiccica tutto andiamo in acqua mattia vengo pure ma che cosa sa cosa? la telecamera ma è già quella che si sta là scommetto non ci credo ma è Andrea contro Mattia e Silvio la vera l'ha messo la gira quanti megapixel perché l'ha messo quello con David? infatti quello con David oh Alessandro ma ti hai fatto il bagno se li metto cazzo devo pirlo di frate ci va ci viene devo dire che parte sempre male dove cazzo è rapida e lo ha detto lui ma non c'è l'audio scusa la prima la prendiamo l'hai messo là l'hai messo là l'hai messo là sì sì ora la prendi la prendi la prendi la prendi all'abbanero mo all'abbanero e i soldi e mo deve entrare all'abbanero ma quando costruisce se andiamo là la sera per la prenderlo ma sì tu bene con mia e c'è lui e stai fino alla mattia se vengo ho messo fino alla mattia faccio uno sforzo è per la mattia stiamo sono alle 6 guardiamo la cosa? la mattia che io no guarda ecco tu dove hai giri per me uno era un pochettino ma hai fatto il mitagno andrà bene però le 6 è pure il mio mercito e poi che serve però c'è dai dai dici quello mio e allora io alle 6 e allora io alle 6 alle 6 alle 6 all'alba tutti quelli che hai video di bicicletti si hai perso tutti i video come? no uno ha vinto con me che la moglietta contro però vabbè quindi andiamo quanto devi dai no no hai portato i soldi hai portato i soldi soldi non vuoi da finire valeri vieni a 12 andiamo da valeri andiamo da valeri che mi hai portato bastone che ce la cara capito ragazzi lui è un calzone sullo stomaco faccio vedere l'arancione cos'è l'arancione ah adesso ho capito e se mi dice hai visto l'arancione mamma mia stai avendo il vomito e il vomito tanto il mare il mare è fatto per questo non dovevo giocare fluido su fuori ci ti riprendi no non si può stoppare da qua da qua no secondo me non si sa mai succedere qualcosa ma riprendere il posto perché devi prendere il posto prendere il posto ma non vuoi più bagnare i capelli su allora espo 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 quant'ora hai pagato sti tatuaggi eh circa 5162 eh no facci un prezzo di listina vieni stasera al labanero vieni al labanero come l'amat si faccio la live nicolás vieni 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 c'è il rafferico una telecamera ah già ah 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 è buona tappa ah 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 che manca la voce eh sì sott'acqua no ah 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 nicolás ah 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 No guarda! Flavio! Flavio! Guarda Minba quel bambino! Vai Minba! Oh! Ma perche' mi s'ha portata? Ma non ho i lissati! Eh... Come? No, è tipo un brucolo che mi sono scoppiato e poi mi sono rimasta la crosta E ogni volta che si fa va di n'acqua poi tipo si fa Si rompe la crosta e poi ogni volta si rifà Un brucolo Mi scoccio a mettere la crema Magic is the world Faccelo vedere in cam? No Faccelo vedere in cam? No Faccelo vedere in cam? Non tengo niente Perché non c'ha la retroilluminazione quando è al buio? Eh ma già, non c'è una cosa così Bitti come me la mettiamo in bocca e si illuminava C'ho le mani belle Che ti fai? Non c'è una cosa così Vabbè è un pleasure, mio Dio Ma devi fare la preparazione prima di mettere l'acqua No, no Questa è l'alange Oddio l'alange No, bevito, bevito E' venuto da sbagliare in acqua Ma posso pubblicare su YouTube? Ok Giurati con una vera cosa Dimmi Dimmi E' per can, non voglio E dimmi Ti non so farlo Eh, che te lo capisci Ti vuole con noi Ti capisci Francesco a spartare No No, basta No, basta C'è un figlio Basta, no, per favore Basta, no, per favore Basta, sì, mi metto È qui da quel grazie Grande fratello basta un'inquadra me ma fai di sé video su youtube? è me è me è me giorda 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 no vabbè prima gliel'ho ficcata in culo a Flavio no no è in acqua è in acqua che suona a tutti andiamo a giocare a casa oh non mi interessa che cosa hai detto questa la spegni quando arriva Antonino lo registriamo solo quando c'è Antonino e poi metti un video partita con Antonino qua la vita di VITER di Carrix non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no raffaele E chi è questo Raffaele? Io mi chiamo Far. No, l'ho scritto Far io, no. E chi l'ha scritto Raffaele? Luca. Bernardez. Dai, è una cosa, che non ci ricordiamo i nomi delle tue amiche, quali sono? Ah, perché le tuoi scriverlo nei video. No, no, eh sì, le tuoi scriverlo nei video. No, no, eh sì, le tuoi scriveri, no. Non le registrare, le fanno la foto. No, le sei che devi fare la foto. Vai in acqua, vai in acqua. Come ti schiava l'altra? Se fai in acqua. No. L'ho già fatto. L'abbiamo già fatto ieri. Ma che disabito. No, ma l'abbiamo già fatto ieri. Ma sono molestissima. Ma non potete molestire. L'ha già fatto ieri. No, solo adesso. L'ha già fatto ieri. Tanto l'ha già fatto ieri. Davio. Davio. Come si bella. Davio. Ma sei sicuro, Gio? Puoi cercarlo, ma non è sicuro. Gio, sei sicuro? È dall'altra parte. Sì, buona. Non l'hai pregato. Tu la telecamera, no? Gio, sei sicuro, Gio. Gesù, Adegnè, Gesù. Ah, salvatò! No, davvero! Ah, salvatò!